E adesso voglio farvi conoscere un maestro di ballo che per noi cubani è il simbolo dei bailadores, Angel Santos, il più conosciuto di tutta Cuba, desde Santiago hasta Pinal del Rigo. Mi amico Angel! Che bello averti di nuovo qui a Lavana con questo nostro calore ardente. Io so che sei figlio d'arte con una lunga tradizione familiare e so anche che hai vinto tanti premi a Cuba. Io voglio che tu ci racconti la tua storia. Ti dirò, sono nato in una famiglia piena di musica. Mia madre è una cantante, mio padre è ballerino, mio nonno suonava la tromba. Io cominciai a ballare nel 1977-78 in un programma televisivo molto famoso qui a Cuba che si chiamava Parabailar. Io partecipavo in coppia con mia sorella, ci chiamavamo Ghermano Santos. Allora cercavo di mischiare lo stile di tutte le danze e i balli cubani, il casino con la rumba, il guaguancò. E questo esperimento è stato veramente un grande successo. La nostra coppia diventò subito molto conosciuta. E' vero, io che sto in Italia, ti posso dire che grazie a queste cose, a questi elementi, la salsa cubana oggi è la salsa che mi piace in Europa, che mi piace in Italia. Esattamente, io dico sempre che il cubano ballerebbe anche su una base suonata con una lattina e una mazza. E così inizierebbe il ballo. Io vorrei sapere se è tanta differenza tra i bailatori italiani e quelli latini. Buono, l'italiano è un vero latino e ha un pregio. Riesce a cogliere velocemente i passi del ballo. Inoltre molti italiani hanno il sabor cubano. In Italia la salsa de casino è molto ballata. Mi piace vedere come ballate con così tanta facilità. Siete così bravi a ballare, soprattutto se pensi che la salsa è un ballo che è nato così lontano da voi. Che non sono bellos. Che non sono bellos, sì, sì. Un, due, tre, un, due, tre, un, due, tre. Ese passo va a fare. Ok. En cruz. E se pone salamera, arregla mentre cariñosa. Echale mano a tu cantera, che sta gustando la cosa. Dale cantera e se è margato. E dici che no. Dale cantera e se è margato. Vino por arriba. Vino por al lado. Il giro è molto facile, solamente c'è un cambio. Con questa mano, cambia la mano izquierda tuya, la mano derecha de ella. Gira por arriba. Cambia la mano derecha tuya, la mano derecha de ella. E giro. Cambio. Con la nuova. Ah, ok, ok. Exactamente. Ho imparato un nuovo giro. Dalabana, un grande saludo. Latina, tribù. Un pedacito de tu corazón, de tu corazón es lo que quiero.